C'era anche il conduttore radiofonico Marco Baldini tra le vittime dell'organizzazione di usurai sgominata dalla Guardia di Finanza a Palermo. I dettagli nel servizio di Simona Licandro. Gli affari andavano bene, spinti anche dall'emergenza Covid. Così il giro di usura tra Palermo e Roma si stava sempre più allargando. L'ho spezzato l'operazione della Guardia di Finanza che ha arrestato quattro persone. Tra di loro Salvatore Cilleri, chiamato il Zucchia Sangue, fratello di un boss allergastolo. Cilleri stava attento a non farsi scoprire. Il capo dell'organizzazione sovente non era neanche conosciuto dalle proprie vittime. Nella rete degli strozzini nel 2017 sarebbe finito anche il conduttore radiofonico Marco Baldini. Dalle intercettazioni emerge come a giugno del 2018 dovesse ancora restituire circa 60.000 euro. Con cifre così alte aumentavano anche i ricadi. Passiamo da prestiti da 2.000 euro a prestiti da 100.000 euro. E quindi anche i tassi di interesse variavano in funzione del denaro che veniva prestato. Abbiamo quantificato come guadagno oltre 150.000 euro. Le difficoltà a denunciare l'omertà delle vittime anche quando il giro di usura viene scoperto sono le difficoltà maggiori per gli inquirenti che indagano su un fenomeno ancora più diffuso dopo la pandemia. La segnalazione alle forze dell'ordine è l'unica strada per uscire dal tunnel. È l'unico modo per uscire e per evitare che anche i propri familiari, perché questo purtroppo è un'attività illecita che viene ereditata anche dai familiari della vittima quando questa non riesce a coprire i prestiti.